Essendo oramai prossima la scadenza del termine ultimo per poter procedere con la nomina, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri è nominato come difensore civico l'Avvocato Gian Donato Morra, che si dice pronto a essere al fianco dei cittadini e al di sopra delle parti politiche. Sono pronto a onorare un ruolo, a occuparmi delle istanze dei cittadini. Il difensore civico è un ruolo tecnico. Il difensore civico non rappresenta parti politiche, che rappresenta tutti i cittadini, le loro istanze, le eventuali lacune degli enti locali abruzzesi, eventuale la regione, la provincia e i vari comuni, più altri tipi di attività che sono previste proprio dallo statuto regionale e da altre norme nazionali di riferimento. Non è organo politico e non lo diventerà con me. Secondo lei perché è stato impiegato così tanto tempo per la nomina? Credo che non dipendesse né dal tipo di nomina né dalla mia persona, ma da un momento di dialettica interna al centro-destra evidentemente c'erano un tipo di problematiche, ma questi contraddittori politici sono stati sempre e ci saranno. E' auspico che vengano meno, che si concludano quanto prima. Spero che magari anche questa nomina sia di alastura alla soluzione di tanti problemi, perché poi vedo che le soluzioni sui vaccini stanno andando bene in Abruzzo, altre problematiche sono seguite bene, quindi è sbagliato, ma lo dico adesso come persona terza, perché non posso avere per questo ruolo né ruoli politici né posso dare indirizzi politici né li voglio dare. Però credo che l'Abruzzo in questo momento, pandemia, crisi di lavoro così, presupponga un'unità di intenti che vada oltre quelli che sono i classici schieramenti, perché nei momenti di difficoltà bisogna remare tutti dalla stessa parte.